Il progetto Last Minute Sotto Casa mette in contatto esercenti, negozi che hanno prodotti alimentari che vanno verso la scadenza e cittadini che vanno a comprare i prodotti dopo esser stati avvisati. Quindi nel nostro caso noi abbiamo due clienti quando parliamo di Customer Journey. Raccoterò come abbiamo fatto molta attenzione e dato appunto molta attenzione sia al lato cliente e sia al lato negoziante. Per quello che ci riguarda sicuramente le keyword sono diverse ma la più importante ed è quella su cui mi focalizzerò è l'ascolto nel senso abbiamo dedicato tanto tempo all'ascolto e solo ascoltando le esigenze suggerimenti sia del lato ripeto consumatori che del lato negozianti siamo riusciti a rimodellare il processo e il progetto e rilanciarli in questa seconda nuova fase. Conosco AISM da parecchi anni, conosco bene Massimo Giordani il presidente, conosco la professionalità e la passione di tutte le persone che ci stanno dentro e quindi per me è stato un piacere farne parte, ne faccio ufficialmente parte e sono ben felice di essere qua oggi con loro a condividere la mia esperienza.